Qui giunti al tredicesimo minuto di gioco, mi comunicano dalla regia, il risultato è di uno a uno e abbiamo qui con noi Iaccarino, se non sbaglio, giusto? Degli Accicorti, sembra essere la formazione sorpresa di questo campionato visto che schiena ben 3-4 novità, elementi giovani, freschi e carichi di prospettive come giudichiamo la prova fina dura della squadra? Stiamo giocando bene, solo che comunque stiamo giocando contro una squadra che ha comunque dei giocatori forti ce la stiamo mettendo tutta Quello che dicono i giornali in queste prime prove amichevoli è che le Accicorti hanno un bellissimo gioco ma non riescono a trovare il gol poi negli ultimi metri Cosa possiamo fare per cercare di risolvere questo problema del gol? Beh, dobbiamo certo sempre impegnarci, dobbiamo cercare di fare il meglio possibile Chiudiamo con un'ultima domanda, chi è il top player di questa squadra? Eh, non lo so, bisogna chiedere anche tutti Il gruppo, vabbè, per ora è tutto, ci ricollegheremo a fine partita per il risultato finale Perdonami, perdonami, è live di De Cristoforo Attenzione, non portano bene queste interviste Ovviamente il Gianelli non le piglia queste Grazie a te besterio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti